Lo sai che se hai un Apple Watch e un iPhone puoi andare a vedere qual è il tuo stato di forma. Ti basta aprire l'app Salute, andare su Mostra tutti i dati sanitari, scorrere in basso e cliccare su Tono Cardiovascolare. Come potete vedere questo valore è la VO2 Max. Nel mio caso 43,4 è un valore sopra la media, ma non è un ottimo valore per me, perché ultimamente, visto che sto lavorando tantissimo, mi sto allenando un pochino meno. Vi metto anche questa tabella, così in base all'età che avete, in base al VO2 Max che avete, potete capire quanto siete allenati. Ma che cos'è questo VO2 Max? Andiamola a scoprire insieme. La VO2 Max è la massima capacità di ossigeno che il fisico riesce a consumare in un minuto. È un po' come, sintetizzando, dire un motore di una macchina. Un motore piccolo corrisponde a una bassa VO2 Max, un motore grosso a un'alta VO2 Max. E va da sé che un motore più grosso può sprigionare più potenza. Il nostro iWatch non riesce a misurarlo direttamente, ma crea una stima della VO2 Max, ma devo dire che è un parametro abbastanza attendibile. Per un bodybuilder è importante avere la VO2 Max alta? No, perché in quel determinato sport si lavora prevalentemente sui muscoli, mentre per un corridore, un ciclista, un atleta di sport di squadra, beh, è importante che sia alto questo valore, perché andiamo ad alzare l'asticella. Ci sono vari fattori che possono influenzare la VO2 Max, l'età per esempio, sicuramente la genetica, ma ricordiamoci che l'allenamento ha una grossa fetta per far cambiare questo valore. Vagli a dare un occhio quant'è la tua.